Professore, oggi è una giornata importante per tutto il nostro territorio. Importante perché oggi si insediano e si apre questo corpo speciale dei carabinieri, i cacciatori di Puglia, un impegno assunto dall'ex ministro dell'interno Marco Minniti, un impegno mantenuto per una presenza di reparti speciali operativi sul nostro territorio per combattere il crimine organizzato e la mafia in provincia di Foggia. Questi sono fatti concreti che rappresentano un segnale di sicurezza per i nostri concittadini. Questa è stata un'estate difficile per la provincia di Foggia, penso agli incidenti stradali, al caporalato. Assolutamente sì, questi sono tutti punti su cui è importante intervenire. Quella del caporalato è una piaga su cui c'è la necessità di mettere in campo degli interventi concreti. C'era già la legge 190 contro il caporalato, vedo un intensificarsi di interventi che hanno portato anche ad arresti di caporali, c'è la necessità di ulteriormente stanziare delle risorse per incentivare il trasporto legale di questi lavoratori e c'è la necessità di avere un'assunzione di responsabilità più complessiva. Non può essere che il costo di un prodotto si debba abbattere sulla miseria di determinate persone.